Quasi dieci anni, tanto è passato dallo stop ai lavori del pallasport di Gravellona Tocce finanziato con i fondi delle Olimpiadi di Torino 2006, innumerevoli peripezie, cambi di progetti, problemi tecnici e di natura burocratica, anche un impasse legata alla scelta delle varie amministrazioni che si sono succedute a Gravellona. Ora finalmente sembra che le cose siano cambiate, non a parole ma con i primi fatti concreti. In a questi giorni infatti Ruspe e Camion sono al lavoro per sistemare l'area esterna che in questi anni è diventata una vera e propria giungla con piante ed erbacce cresciute dovunque. Il materiale di recupero derivante dalla pulizia del rio Stronetta sarà invece utilizzato per alcuni interventi, per prima cosa riempimenti per rimodellare le parti più basse del terreno. Tutti gli interventi riguardano come detto l'area esterna perché per una ripresa vera e propria dei lavori alla struttura bisogna attendere ancora qualche settimana. Stiamo attendendo che dalla provincia, spiega il sindaco Gianni Morandi, arrivi la nomina del direttore lavori. Dopodiché si potrà procedere con la ripresa dei lavori alla struttura in linea teorica per il completamento dell'opera e la tempo stimato è in meno di 365 giorni. Ricordiamo che ad aggiudicarsi l'appalto per un valore di poco più di 3 milioni di euro è stata la ditta Tecnoedi di Cirie. Nell'otto dei lavori sono previsti la copertura, le pavimentazioni, i serramenti, i rivestimenti, le finiture e l'impiantistica. Rimangono fuori le tribune per le quali la comune è già a lavoro per reperire nuovi finanziamenti. L'importante è riprendere i lavori come stiamo facendo, poi il resto verrà da sé. Le parole conclusive di Morandi.